La vittoria nel giro della Gran Brestagna, la più importante affermazione del giovane corridore olandese. Intanto il vantaggio di Creper è sceso a soli 25 secondi. Ecco l'olandese che si volta, alza le braccia, ormai è prossimo al traguardo. Arriva in suplesso, ha braccia alzate, si è tolto il caschetto, ormai sicuro del successo.